Sera, compreso quando è festa, e c'è chi ha messo le isacchi di sabbia vicino alla finestra, e si sta senza parlare per intere settimane, e a quelli che hanno niente da dire del tempo ne rimane. Ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione, e di quanti stiamo già aspettando, sarà tre volte nazzone e festa tutto il giorno. Ogni Cristo scenderà dalla croce, e gli uccelli faranno ritorno, ci si darà da mangiare, e luce tutto l'anno. Anche i molti potranno parlare, mentre i soldi già lo fanno, ed essi farà l'amore, ognuno come gli va. Anche i freddi potranno sposarsi, ma soltanto a una certa età, e senza grandi disturbi qualcuno sparirà. Saranno forse troppo furbi, e i cretini ogni età. Allora? Beh! Pugari! Vedi caro Nico, cosa ti scrivo e ti dico? E come sono contento, di essere qui questo momento! Vedi caro Nico, cosa si ne dico? Piaolia! 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 Senti, qua 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 qua! E se quest'anno poi passasse in un istante, vedi amico mio, come diventa importante, che in questo istante ci sia anch'io. Vedi vedi vedi, vedi vedi, la so che si sta arrivando, tra un anno passerà. Io mi sto preparando, no, non ci sei. E questa è la notte. Ah ciao! Che se ne ha? Ok! Ok, basta! Ok, ok! Ok!